E' ricoverata nel reparto di reanimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Piera Muresu, la donna di 48 anni di Senori, vittima ieri di un tentato femminicidio da parte del compagno, Adriano Pirodu, 42 anni, anche lui di Senori, che successivamente si è tolto la vita. La donna è stata raggiunta da due colpi di pistola esplosi dall'uomo che l'hanno raggiunta al collo a una scapola. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando provinciale di Sassari, i due sarebbero andati a fare un giro in campagna, avrebbero litigato e l'uomo avrebbe ferito la donna con una pistola di piccolo calibro. Quindi l'avrebbe riaccompagnata in paese dove è stata soccorsa dal 118 e trasportata al nosocomio sassarese dove è stata operata ad urgenza. L'uomo invece sarebbe tornato a casa sua per togliersi la vita. I carabinieri stanno cercando la pistola utilizzata dall'uomo. Le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Sassari vanno avanti per ricostruire nel dettaglio la dinamica della vicenda.